Siamo da Campomarcio 70, la migliore profumeria di Palermo. Vieni con me che ti faccio vedere altre due novità di Montale. Allora, devo dire che ultimamente Montale non sbaglia un colpo. Tutte le ultime uscite sono tutte azzeccatissime. Oggi ti faccio vedere il rendezvous a Milano e il rendezvous a Parigi. Prendiamo uno e due. Eccoli qua, rendezvous a Milano. Allora, questo è un profumo freschissimo. Parte con una bellissima apertura con il basilico. Però poi si scalda. Si scalda grazie a delle spezie spettacolari quali il caffè e i chiodi di garofano. Un bouquet di fiori con rosa e tube rosa. E un fondo muschiato, ambrato, con vaniglia e caramello. Che gli danno un tocco gourmand spettacolare. Promosso, questo veramente mi fa impazzire. Poi ti faccio vedere anche l'ultimissima uscita, il rendezvous a Parigi. Qua abbiamo un'apertura gourmand croccante, con una pera croccante e il rabarbaro. Un cuore floreale, dove abbiamo dei fiori bianchi e la rosa. E un fondo muschiato e ambrato. Top! Anche questo top, però se posso dire la mia, questo è eccezionale. Rendezvous a Milano. Perché vieni quella l' documents. Hiç ha fatto passato il fatto il fatto in pieno呢. Nacqu'è처vo che sì. Noc'è un�onta un casino. Io ho fatto posso direl叨 monitors.